pensiero ad alta voce gli incapaci forse al sabato una volta al mese andava previsto in sacchetto con la dicitura incapaci incapaci di organizzare una serie raccolta differenziata incapaci di informare la cittadinanza incapaci di descrivere al meglio ogni operazione incapaci i cittadini di esercitare un proprio diritto di mostrarsi maturi dinnanzi ad un passaggio storico importante per la città incapaci di differenziare e differenziarsi in positivo cari cittadini prendiamo atto della difficoltà del porta a porta e riscattiamoci per risultare capaci come la storia ci ha insegnato buona vita l'uvese